Che tipo di gara si aspetta? Una gara di categoria, una gara con una squadra che ha voglia di fare punti, questo sicuramente punto fatto domenica darà morale, quindi troveremo una squadra che ci crede, che vuole venire qua a fare la partita, a fare punti e da quest'altra parte troverà una squadra ancora più vogliosa e soprattutto una squadra che ha fatto delle esperienze in questo avvio di campionato e dove non deve ripetere gli stessi erosi commessi in precedenza. Magari ci penserà ancora un po' però oltre a Ceccarelli che ha già esordito tra l'altro chi sono gli altri convocabili dei nuovi? Dei nuovi credo solo Don Sa, in settimana credo sbloccheranno anche la situazione Sini, su Balic ancora mi hanno detto che non c'è nulla, quindi staremo a vedere. Un'ultima cosa, per quel che riguarda il modulo, parliamo di numeri 4-3-3, potrebbe cambiare modulo in vista della gara di domenica? Sì, potrebbe essere, noi abbiamo anche terminato la partita giocando 5-3-2 fuori casa, quindi ci potrebbero essere dei risvolti in questi due giorni, abbiamo parlato già in settimana con i ragazzi di alcune cose, poi andremo nel dettaglio e quindi in conseguenza valuteremo il tutto.